È comparso nelle ultime settimane. A scuola fa fatica a tenere la matita in mano. Ti dà plurito? È cambiato qualcosa ultimamente? Un guanto da baseball, un gattino nuovo? I vicini hanno messo la piscina, quindi passa molto tempo da loro. Ma se fosse qualcosa nell'acqua lo avrebbe dovunque, no? È qualcosa nell'acqua. È allergico al cloro? No. È allergico a lilla estivo? È la mia lozione. E non è nella piscina? No. È sulle palme delle sue mani. Nella piscina c'è la figlia del vicino. O la moglie sexy del vicino. Tieni un lubrificante. Mi dispiace, per gli occhi è troppo tardi. Iscriviti al Across Westminster www.Lisываем.com Grazie a tutti